Tutti hanno nel cuore delle resistenze che frenano la forza della grazia e impediscono di andare avanti. Nella prima settimana dell'Avvento, celebrando la messa nella cappella della Casa Santa Marta, Papa Francesco ha distinto le resistenze sane, quelle aperte alla conversione, da quelle nascoste. Riferendosi in particolare a queste ultime, il Pontefice ha parlato della resistenza delle parole vuote che portano a una forma di gattopardismo spirituale di quanti dicono che tutto cambierà per poi non cambiare nulla. Della resistenza delle parole giustificatorie e della resistenza delle parole accusatorie. Io vi dirò non avere paura quando ognuno di voi, di noi, trova che nel suo cuore ci sono resistenze. Ma dirlo chiaramente al Signore. Ma guarda, Signore, io cerco di coprire questo, di fare questo, e per non lasciare entrare la Tua parola. E dire questa parola tanto bella, no? Signore, con grande forza, soccorrimi. La Tua grazia vinca le resistenze del peccato. Le resistenze sono sempre un frutto del peccato originale che noi portiamo, no? È brutto avere resistenze? No, è bello. Il brutto è prenderla come difesa dalla grazia del Signore. Avere resistenza è normale. E dire, ma sono pecatore, aiutami, Signore. Prepariamoci con questa riflessione al prossimo Natale. Prepariamoci con questa riflessione al prossimo Natale.